La nostra sessione si intitola Statistica medica nella pratica pneumologica, non è un titolo che possa tirare le masse a prima vista, ma in realtà gran parte dell'informazione scientifica da parte di informatori scientifici dell'industria farmaceutica oggi si svolge usando clinical trial, portando estratti, riassunti, analisi di questi studi e quindi è vitale per un operatore sanitario, medico, infermiere che sia, di poter interpretare anche autonomamente per non essere nelle mani completamente dell'industria farmaceutica.